Dal vostro inviato per Juve Mingha Club TV sugli effetti del maltempo qui in Riviera Quali sono i tuoi ordini Carcamagno? Manda la flotta all'estremità più lontana di Eindor e che resti là in attesa di ulteriori ordini E le notizie che Gobbo Trentino si è rifiugiato vicino a Sallast? Non c'è da preoccuparsi, presto il giovane Trentino sarà sconfitto e diventerà uno dei nostri Sarà fatto mio signore Dalla Riviera è tutto, a voi la linea